È singolare la proposta di Guglielmo Giannini, il leader dell'uomo qualunque, che propone di stabilire nella Costituzione sia il divieto dello sciopero sia il divieto della serrata. Ma i qualunquisti a Montecitorio seguivano una condotta del tutto particolare. Io sono quasi l'unico superstite del tutto il gruppo dell'uomo qualunque, e quindi in quello che le dirò c'è, posso essere testimone soltanto dell'orientamento generale del gruppo. Il centro e la sinistra andarono perfettamente d'accordo, furono i tre protagonisti della Costituzione. Mi sono spiegato. Di oppositori reali alla Costituzione ci furono soltanto il gruppo qualunquista e il gruppo monarchico. Ai singoli articoli vi sono state opposizioni da varie parti della dettagliatura del dettaglio dell'originale testo presentato, come vedremo in seguito, ma in ultima analisi la Costituzione fu frutto di un accordo tra socialisti, comunisti e democristiani.